yuk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono yuk e benvenuti in questo mini video dove vi presento il mio pappagallino nuovo appena acquistato da poco è il secondo giorno che esce dalla gabbia e sono addirittura fuori di casa e il pappagallino è della razza che non mi ricordo colli colli come si chiama rosei colli e ha poco tempo poco tempo quattro mesi circa lo sto addomesticando sto cercando di domesticarla e ragazzi l'unica cosa che dovreste fare voi è aiutarmi a dargli un nome come ho scritto su facebook e che te la chi adesso è a terra nel giardino fuori di casa mia e che dirvi che dirvi che dirvi ragazzi è una figata è una fighetta saluta saluta di ciao mi date un nome allora ragazzi lei è femmina e aiutatemi a scegliere un nome è un pappagallino com'è che si chiama com'è che si chiama come si chiama rosei collis vuoi andare sull'albero sì ragazzi perché la sto domesticando e sono fuori di casa infatti è la prima volta la seconda volta che esce dalla gabbia e vedo che abbastanza su agio per cui mi ha punzecchiato tutte le mani infatti c'ho tutte le mani bucate orca loggia un po' si va sulla foglia sull'albero dove lo posso mettere qua vieni bello vieni no qua c'è il sole non va bene ti metto qui vai 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 niente ragazzi anche lei farà i video vedete che a suo agio con la telecamera non riesco a mettere bene a fuoco c'ho il bambino che vuole anche lui vuole prendere l'embrane in mano ragazzi solo quel bambino me la schiaccia poverino ho provato ma la schiaccia la uccide guardate guardate quanto è curiosa si sto parlando io però sono di qua se ti giri di qua sono di qua ecchietela chi di ciao a tutti ragazzi ha bene torna su torna su eh ragazzi mi vuole entrare in tasca vieni fuori uè no è entrato in tasca mi è entrato in tasca l'uccellino vieni fuori no vieni fuori ragazzi non posso prenderlo questo morde eh ragazzi un piccolo problema dovevo metterlo in gabbia ma non vuole più entrare entri pirletta entri entri ragazzi è affacciato alla finestra della sua gabbia e non vuole entrare mi aiutate per favore dai entra non mi mordere perché ti mordo io a te oh è entrata è entrata ce l'ho fatta missione compiuta ragazzi giorno 2 andato vedremo nel giorno 3 andiamola a salutare ciao saluta a tutti fai un fischio fischia ok da Luke e il pappagallino è tutto ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.